Si chiama Escherichia coli, è noto a molte pazienti e pazienti ed è noto anche a molti specialisti. Cosa ci può dire in merito? A cosa serve? È una visita fondamentale per la valutazione dello stato di salute della prostata in quanto il dito esperto può sentire, entrando nella prima parte del retto, la ghiandola prostatica che si appoggia al retto. Adesso cerchiamo di chiarirci per quale motivo questo microrganismo, che apparentemente l'avete visto, sembra così innocuo, nel momento in cui colonizza le nostre vie urinarie, invece determina delle patologie molto importanti e che impattano la qualità di vita dei pazienti. Come faccio a accorgermi di stare sviluppando un tumore alla prostata? Ci sono dei sintomi? C'è qualcosa che mi può portare a fare controlli immediati? Ci sono dei sintomi? C'è qualcosa che mi può portare a fare controlli immediati? Ci sono dei sintomi? C'è qualcosa che mi può portare a fare controlli immediati?